Anche gli studenti universitari oggi in piazza, nella giornata dello sciopero generale, per dire no a quel modello che vogliono imporci, il modello Gelmini-Marchionne-Berlusconi, quel modello che stiamo contestando da settembre e dall'inizio delle mobilitazioni dello scorso autunno. Oggi siamo voluti essere qua in piazza come precari in action, per affermare quel diritto di sciopero, anche di tutte quelle figure alla quale il diritto di sciopero non è garantito, a cui non possono oggi sottrarsi dal lavoro. Oggi vogliamo generalizzare lo sciopero della CGL, affermare che c'è la necessità di bloccare un paese intero per più tempo, per un tempo prolungato, per dire basta a quello che ci sta accadendo intorno, per dire basta alle imposizioni che tendono ad arrivare dall'alto, per dire basta alla riforma Gelmini e a tutti quelli che oggi la stanno rendendo attuativa, l'hanno assunta e la vogliono scaricare sulle vite di migliaia e migliaia di studenti, giovani e precari.